Ed eccoci al Bayer di Monaco che batte il Mentore 17 Tirana per 3 a 1, gli albanesi riescono a segnare un gol dopo aver subito il rigore da Kegel che abbiamo visto trasformare al sedicesimo minuto. Ecco il raddoppio di Mikhailovich al termine di quest'azione che arriva dalla sinistra con la traversone basso, la deviazione di Mikhailovich. La ripresa da dietro la porta ci mostra però che c'è una deviazione ulteriore di un difensore albanese, si tratta quindi in effetti di un autogol. Ma comunque dopo pochissimi minuti, dopo 4 minuti soltanto, riesce ad accorciare le distanze almeno temporaneamente la formazione di Tirana con un gol realizzato da Minga al trentesimo. Il gol del 2 a 1, bella l'azione, bello il palleggio e poi il gran tiro a botta sicura di Minga. Al diciannovesimo della ripresa il terzo gol del Bayern, un gol che dà una certa sicurezza alla formazione tedesca per il passaggio del turno, una delle favorite in Coppa dei Campioni. Grande stacco di testa di Mikhailovich sul cross da sinistra ed è 3 a 1 per il bar.